Ciao ragazze, bentornati e benvenuti in questo nuovo video! Oggi spacchettiamo un pacco speciale, cioè il regalo pensato da Milena Pellegrino, Yves Rocher, per noi capogruppo, migliori nel 2020. Se sei curiosa, continua a guardare! Vi avevo raccontato, vi avevo fatto vedere nel vlog che è uscito un po' di tempo fa, quando c'è stata la convention a febbraio, che appunto ero stata nominata tra le migliori capogruppo dell'area Quercioli e al migliori capogruppo era pensato appunto un regalo speciale, quindi adesso andiamo ad aprire perché non vedo l'ora, sto fremendo, è qui che mi aspetta! Stavo aspettando proprio di fare questo video, così lo apriamo insieme, non ditemi poi che non vi penso e che non vi voglio bene! Questo è il pacchetto, come possiamo vedere è diverso dal solito, perché qui abbiamo delle scritte che solitamente non ho mai visto, e ci dice che i prodotti brochet vengono coltivati in Bretagna, che hanno il 100% di prodotti vegetali, che il packaging ha il minore impatto possibile sull'ambiente, che coltiviamo da agricoltura biologica. Io non vedo l'ora di prendere questo pacco, chissà cosa ci sarà dentro. Siete pronte? Io sono prontissima! Vediamo qual è il regalo per le migliori capogruppo che hanno pensato. Quanti prodottini! Che bello! Ma che meraviglia! Qua vedo una pochette, vediamo subito. Ma wow! Questo beauty fantastico! È bellissimo! Mi piace, beauty mi piace. Poi abbiamo prodotti della linea che uscirà nell'album 5, quindi adesso li proveremo, poi li studieremo bene. la nuova linea Pur Mint, e c'è anche questo gommage purificante, poi lui il germarino struccante all'alga, cioè questo ragazzi non vedo l'ora di provarlo, perché promettono proprio di cambiare la nostra modalità di struccaggio, quindi io non vedo l'ora di provare tutti questi prodotti. Poi abbiamo i prodotti della Pur Calendula e anche... No, questo qui non è Pur Calendula, Pur Calendula, e qui abbiamo il latte detergente levigante. Poi anche questo prodotto non vedo l'ora di provarlo, che lui è una spuma ossigenante, e questo è assolutamente una novità in Yves Rocher, che non c'è ancora, è lui per me, ragazze. Poi una volta che provo tutto, vi farò qui sul canale ovviamente un video formazione dove proviamo anche i prodotti insieme. Questo è l'olio struccante della Pur Camomile, gel detergente anche questo della Pur Alga, e lui l'acqua floreale purificante alla menta. Questa ragazze secondo me d'estate è bellissima, perché essendo la menta è anche super fresca, quindi top. Poi struccante rapido della Pur Bluie, e gli ultimi due prodottini sono la mascheria calmante alla Camomile, e questa invece è la maschera ossigenante idratante alla Pur Alga. Questi sono tutti i prodotti che sono arrivati, sono tutte novità, e non vedo l'ora di vederle bene, di provarle tutte, provarle insieme. Vedremo anche appunto, come vi ho detto prima, la formazione di ognuno di questi, e questo beauty è fantastico, è gigante. Sono felicissima, grazie, meraviglioso. Bene ragazze, con questo è tutto, spero che questo video ti è piaciuto, a me è piaciuto tantissimo, se è così lascia un mi piace, iscriviti al canale se ancora non sei iscritto, mi farebbe davvero tanto piacere, io ti aspetto su Instagram, mi trovo su cristina.valone, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!